Consigliere Blasioli, che cosa c'è che non va in questo rapporto annuale della Regione Abruzzo? Che i numeri sono completamente falsati rispetto ai numeri delle SDO che sono state comunicate dalle unità operative complesse. Ciò lede naturalmente la programmazione finanziaria a quell'ospedaliera dell'ospedale di Pescara, ma anche la professionalità, il lavoro portato avanti da tantissimi medici e infermieri. Ci sono alcuni reparti che nel 2019 risulterebbero addirittura aver ricoverato zero persone, invece in realtà, come la Stroke Unit, ha ricoverato il più alto numero di persone in Abruzzo. Il che significa non garantire loro la soglia che giustifica la permanenza stessa di questi reparti. 6.000 ricoverati in meno per l'ospedale di Pescara, che scende da 25.000 del 2018 ai 19.000 del 2019. è un errore troppo grande che chiediamo venga giustificato dall'assessore, che chiediamo che venga immediatamente corretto, che venga immediatamente mandato al Ministero dove è stato mandato un rapporto che quindi ha dei numeri completamente sfalsati rispetto a quella che è la realtà e che chiediamo, e questo lo faremo naturalmente in Commissione e in Consiglio, non giustifichi una promessa, l'ennesima promessa ancora non mantenuta da parte del centro-destra abruzzese, di fare dell'ospedale di Pescara il DEA di secondo livello, con numeri che sono assolutamente livellati, con un 30% in meno, e che fanno apparire l'ospedale di Pescara quasi simile ad ospedali DEA di primo livello, come per esempio Lanciano, Vasto ed altri. Voi che cosa chiedete? In sostanza, l'ha già detto, che vengano corretti questi dati, ma la critica politica poi qual è? La prima critica politica è quella di mantenere la promessa che in campagna elettorale il centro-destra aveva fatto alla Regione Abruzzo, la città di Pescara, alle tante esternazioni fatte dal Presidente del Consiglio regionale, dal Sindaco di Pescara, che avrebbero fatto di Pescara il DEA di secondo livello. Così non è stato, anzi viene corretto a ribasso il numero dell'effettività sostanziale dei ricoveri dell'asile di Pescara. Questo è un dramma per il nostro territorio ed è soprattutto un non riconoscimento della professionalità di tanti medici e infermieri che lavorano all'interno del nostro comio Pescara.